25 gennaio 2017 a Piazza Gavur davanti alla sede della Corte di Cassazione c'è una manifestazione radicale, una manifestazione organizzata dal Partito Radicale con uno striscione emblematico che racita giustizia giusta con punto esclamativo. Maria Laura Turco, avvocato radicale, ci spieghi i motivi di questa manifestazione. Sì, allora siamo tornati in piazza a chiedere ciò che già dal 1969 stiamo chiedendo la giustizia giusta. Allora in particolare c'è una riforma della giustizia che giace in Senato e noi chiediamo tra le altre cose che venga estrapolato da questa riforma la parte relativa all'ordinamento penitenziario perché urge di adottare tutti quei provvedimenti che riguardano le carceri, in particolare le condizioni in cui attualmente si vive la detenzione. Tra le altre cose ribadiamo questa richiesta della giustizia. Noi abbiamo preparato come Comitato Giuridico Radicale un pacchetto di proposte di legge detto pacchetto pannella con le quali riproponiamo, continuiamo a riproporre sempre gli stessi temi di separazione delle carriere e dei magistrati, diciamo tra il giudice e il pubblico ministero e una modifica dell'articolo 4b affinché non ci sia questa automaticità per i reati più gravi che poi l'abolizione dell'ergastolo e per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'azione penale una riforma costituzionale dell'articolo 112 affinché appunto non ci sia più l'obbligatorietà dell'azione penale. Una cosa su cui mi pare di ricordare la raccordo anche Falcone. Eh sì, però insomma siamo ancora così. E poi diciamo tra le altre nostre richieste c'è tutto quello che può riguardare il fatto degli incarichi extra giudiziali ai magistrati, sia incarichi parlamentari sia altri incarichi perché così come il tema dei magistrati fuori ruolo noi chiediamo che questi magistrati tornino a lavorare dietro le loro scrivanie che si celebrino i processi, insomma non si facciano distrarre da altri incarichi. E voglio dire che noi siamo qui e l'Associazione Nazionale Magistrati invece ha disertato questa occasione di dibattito pubblico e diciamo abbiamo detto noi oltreggiando le istituzioni perché voglio dire è un momento in cui bisogna un attimo riorganizzare i servizi della giustizia e dire che cosa vogliamo fare. L'Associazione Nazionale Magistrati ha delle rivendicazioni per quanto riguarda il proprio pensionamento, insomma lo sappiamo e quindi ha ritenuto di disertare questa occasione istituzionale. Questa mattina anche il rappresentante del governo è presente alla inaugurazione dell'anno giudiziario e nella relazione del ministro Orlando che ha presentato al Senato qualche giorno fa in 750 pagine vengono fuori dei dati che però non rispecchiano la situazione reale. Come ci ha fatto constatare Rita Bernardini quello che invece viene fuori sono i dati del sovraffollamento che è in sicuro aumento, 2500 unità in un solo anno. I numeri sono questi. Allora al 31 dicembre 2015 c'erano 52.164 persone recluse, al 31 12 2016 sono 54.653. Questo ripropone il problema del sovraffollamento al quale nessuno finora ha saputo dare una soluzione perché la soluzione non è costruire nuove carceri, la soluzione può essere la penalizzazione però se non si mette mano ad un provvedimento di amnistia o di indulto la giustizia resta intasata, i tavoli dei giudici restano pieni di fascicoli e praticamente non si va avanti. E quindi questa qua è anche una manifestazione che rilancia un po' l'attività del Partito Radicale? Sì, noi con il congresso di Re Bibbia ci siamo dati l'obiettivo dei 3.000 iscritti per quest'anno perché abbiamo detto che altrimenti non siamo per vivacchiare, per dirla a Lorenzi, ma dobbiamo essere insomma in forze per poter riproporre con maggiore forza appunto tutti i nostri temi e questi temi che ormai sono improrogabili per il nostro stesso Stato e così come anche i temi dell'Europa e addirittura per quanto riguarda il diritto alla conoscenza in sede mondo e quindi ci siamo dati questo obiettivo minimo di essere almeno in 3.000 per poter combattere diciamo con forza verso questi obiettivi, 3.000 per il 2017 e 3.000 per il 2018. Questa mattina in piazza già abbiamo fatto due iscritti, siamo più o meno a 500 iscritti e insomma forza iscrivetevi. Grazie Maria Laura Ducco.